Ah, da quant'è che non facevo una top 5? Oggi parleremo di una serie che ha appassionato moltissima gente Assassin's Creed Ma questa volta non sarò da solo Raga, ci siete? Niente, lascia stare, poi ti spiego E Chica dov'è? Dov'è finita? Ok, allora, ci siamo tutti Via allora con la top 5 sugli Assassin's Creed più belli Al quinto posto troviamo Assassin's Creed Black Flag Perché al quinto posto? Diciamo che mi è piaciuto solo per quanto riguarda l'aspetto nautico Esplorativo e del fatto che tu possa esplorare tantissimi luoghi Da Pirati dei Caraibi Puoi personalizzarti la nave Ci sono un sacco di segreti come il mistero del Kraken Puoi abbordare le navi nemiche Però, per quanto riguarda la storia Dovrebbero togliere la scritta Assassin's e mettere Pirate Perché effettivamente con la storia degli assassini Non c'entra nulla Praticamente c'è questo pirata Che trova il costume di un assassino E inizia a fare meraviglie, diciamo Cosi impossibili E ad abbordare navi Non combatti i templari Tutto quello che fa è È una roba fine a se stesso Lo fa solo per se stesso Non importa niente della guerra tra assassini e templari Al quarto posto troviamo Assassin's Creed 1 Il primissimo capitolo Di al quarto posto perché Sì, la storia è bella Molto... Centra con la guerra tra assassini e templari Perché effettivamente quello è il periodo Ed è il bello anche che Altair Non è munito di armi impossibili Come la lama fantasma di Arno O la lama avvelenata di Ezio Ma è munito di armi dell'epoca Tranne la lama celata Quindi lo rende molto più credibile Il problema, più che altro È che lo scenario è un po' limitato E anche le dinamiche di gioco Lo so che è il primo capitolo Quindi fa quel che può Però diciamo che gli altri Lo battono per quanto riguarda scenario e lotta Nulla toglie però la storia eh Al terzo posto invece abbiamo Assassin's Creed 3 E al terzo posto perché le ambientazioni Sono molte e anche fatte bene Puoi utilizzare sia Hitam Il padre di Connor Connor ed Esmond Quindi anche una grande varietà di personaggi Da usare nella storia Oltretutto può interagire con moltissimi personaggi dell'epoca Tipo George Washington L'unico problema è che la storia è molto patriottica Non c'entra più di tanto con la storia degli assassini Ma nonostante questo è un bel capitolo Al secondo posto abbiamo Assassin's Creed Rogue Perché al secondo posto? Perché per una volta la Ubisoft Ha fatto qualcosa di nuovo Non devi più prendere il controllo di un assassino E salvare tra virgolette il mondo Bensì di un templare Messo però sotto una luce diversa Infatti questa volta il templare Sarà il buono Infatti il protagonista Vuole portare la pace e difendere i deboli E stavolta invece gli assassini sono i cattivi Essi vogliono governare Tutta l'America Come dei tiranni E' molto bello anche le ambientazioni Il fatto che tu puoi andare nel circolo polare artico Ma... Il prossimo lo è ancora di più Devo bruciare il passito Assassin's Creed II sicuramente merita il primo posto E no Unity Capito Foxy? La storia ti tiene col fiato sospeso Le ambientazioni sono molto fedeli Firenze eccetera Ma soprattutto è ambientata in Italia Una di quelle rare volte che il nostro paese viene preso in considerazione per un videogioco Complimenti anche alla figura di Ezio Personaggio privo di misteri E che rispetta fedelmente il credo degli assassini Tint è un normale ragazzo che tutto ad un tratto si ritrova catapultato nella guerra tra assassini e templari Oltretutto le armi Anche se sono molte Sono verosimili come ad esempio la lama celata che stavolta non è necessario amputare il dito Oppure la lama avvelenata Oltretutto come in Assassin's Creed 3 Qua abbiamo un'interazione con molti personaggi famosi come ad esempio Leonardo da Vinci Quindi si Assassin's Creed 2 è davvero un bellissimo gioco Questo è tutto Se il video vi è piaciuto mettete un like Commentate e condividete Detto questo con un ban La mia ragazzo è una prima La mia ragazzo è una prima La mia ragazzo è una prima